Buongiorno, il mio nome è Fabrizio Muffeo, sono direttore commerciale di Asvantek per la divisione di CellSign. Quest'anno è il terzo anno per noi all'Ise, diciamo che è un anno molto interessante. Tra le nuove tecnologie che presentiamo c'è l'UPS, il Vagable System, le terza generazioni Intel. Questo è uno standard affermabile con Neck, con Philips e con Mitsubishi Monitor. Abbiamo inoltre presentato nuovi prodotti, panel PC, multi-touch, con tecnologia Corai di serie Ivy Bridge. E inoltre, diciamo che sta prendendo piede la soluzione Android. Vediamo una tendenza da parte delle software a fare l'importing verso i sistemi operativi quali Android, che prevedono un license free e danno la possibilità di avere la stessa privacazione anche in mobilità.